Una giornata di festa, una giornata che probabilmente vi consente di ricordare nel miglior modo Paolo. Sicuramente, approfitto di voi per ringraziare il Messina che da tre anni viene per questo Memorial e sicuramente anche la Tiger che ci dà questa opportunità di ricordare Paolo in questo giorno bellissimo. In quanto lui era un giocatore della Tiger, era un tifoso della Tiger, un appassionato di calcio e ci fa molto piacere questo. Non è semplice superare e elaborare anche a distanza di così tanto tempo un lutto, una partita del genere? Sicuramente. Diciamo che noi ancora conviviamo con questo grande dolore perché bisogna passarci per capire cosa vuol dire la mancanza di un figlio. Poi un figlio splendido come Paolo, un figlio veramente affettuoso, non solo con noi i genitori ma anche con tutti gli altri. Abbiamo avuto tanti testimoni di persone che gli volevano bene e che lo amavano veramente. Amichevole che all'aspetto del ricordo ha poi unito anche risultati importanti. È stato il preludio a due promozioni sia per il Messina che per la Tiger Ball, una splendida realtà per questa provincia. Sì, infatti parlavo con un dirigente del Messina e ma è diventato un appuntamento anche per la, diciamo, presca l'amantico, perfetto, perché ci ha portato bene. È due anni che andiamo avanti sia noi che loro nelle nostre categorie di appartenenza e quindi diciamo che continueremo così. Provincia che quest'anno schiera addirittura in Serie D nella quarta serie nazionale tre formazioni che rappresentano centri che si distanziano di pochissimi chilometri, oltre a Brolo, Capo d'Orlando e gli HDP Rino, non è semplice probabilmente mantenere un patrimonio del genere che però è fondamentale anche per tanti giovani come Paolo. Sicuramente non è semplice per quanto riguarda la questione economica. Viviamo in un momento particolare, la gente non ha neanche soldi per comprasti il pane, immagina spendere per il calcio. Dobbiamo dire grazie a questi sponsor che ci danno un aiuto e per quanto riguarda le squadre che stanno vicino a noi sicuramente anche loro hanno problemi diciamo economici. Però il campanilismo ci porta ad andare avanti e saranno dei terbi spettacolari. Grazie a tutti. Grazie per la visione!